Debutto vincente in campionato per le Under 13 del Cigici Viareggio. I giovani bianconeri nella prima di stagione al palestrone al Varignano hanno battuto 9 a 1 i cugini dell'SPV Viareggio. Un bel match con tanto agonismo e talento delle giovani promesse dell'Hockey Viareggino. A segno per il centro sono andati Francesco Carrieri, Matteo Marchetti, che ha segnato quattro reti, una doppietta per Davide Bemi e una doppietta per Lorenzo Torcigliani. Per il Cigici Under 13, allenato da Mirko Bertolucci, è il primo match dopo il turno di riposo osservato alla prima di campionato a Girone Unico Toscano. Al debutto invece l'SPV aveva battuto 6 a 4 il Grosseto. Le due formazioni adesso sono alla pari in classifica, guidata dai maremmani del Follonica. Nel prossimo turno, domenica 13 novembre, l'SPV Under 13 se la vedrà proprio con il Follonica in trasferta. Il Cigici invece sarà impegnato nel derby versiliese contro il Forte dei Marmi. Al palaforte di Vittoria Puana, nella stessa giornata, si confronteranno anche gli Under 11 delle due società.